come nasce l'idea del tuo libro volevo scrivere qualcosa sulla siria perché penso che questa guerra veramente una vergogna si dice che l'umanità è morta in siria un giorno ho letto su internet per caso un annuncio di un'associazione di mardin che è una piccola cittadina al confine turco siriano dove si fa circo sociale con i bambini profughi siriani afghani iracheni kurdi di varie nazionalità e questo modo di affrontare il dolore dei bambini attraverso il circo mi ha sembrato una cosa straordinaria cercavano artisti da tutto il mondo che venissero come volontari a insegnare il circo ai bambini di mardin e così ho contattato questa associazione e dopo neanche un mese sono partita per mardin dove sono stata qualche giorno a fare volontariato con questi bambini alla storia di siamo gli eroi del circo un contrasto forte quello tra i sorrisi del circo e la guerra che invece sorrisi li distrugge li massacra il titolo del libro siamo gli eroi del circo è una traduzione della scritta che i bambini di di mardin hanno sulle loro magliette degli spettacoli we are the circus heroes pensi che verrebbe un bel film da questo libro sì penso che potrebbe venire un film interessante è una storia d'amore tra due adolescenti e la freschezza dell'amore tra due adolescenti la purezza dei loro sogni è proprio quello di cui il mondo ha in questo momento bisogno è una storia d'amore rivoluzionario perché questi due ragazzi che sono scappati entrambi dall'epo e quindi poi sono costretti a separarsi sono lui musulmano e lei armena e per il popolo siriano che pure un popolo molto aperto non è possibile un rapporto d'amore tra musulmani e armeni quindi cristiani magari il nostro problema non è in italia rapporto tra musulmani armeni ma anche noi abbiamo le nostre categorie ed è bello ricordarsi che invece l'amore quando è grande e sincero riesce a spezzare tutte queste catene semplicemente per una paura che deriva dalla mancanza di conoscenza dalla mancanza di incontri e per questo che è fondamentale raccontare storie e poi parla di un sottofondo di dolore che è la guerra la guerra la fanno i bambini la fanno le donne la fanno gli uomini comuni come noi che da un giorno a quell'altro si ritrovano a dover scappare dalla propria casa a sperare di poter ricominciare altrove un'altra vita magari a perdere familiari e sono dolori che non si possono neanche immaginare se non si ascoltano quantomeno raccontare da chi li ha vissuti come hai conosciuto una storia per il cinema e quali sono le tue aspettative dal concorso ho conosciuto questo concorso una storia per il cinema da internet e mi è sembrata una bella idea di unire questi linguaggi che sono così affini aspettative non ne ho perché ho imparato partecipando anche ad altri concorsi che è meglio non averne sono stata contentissima di essere tra i 20 finalisti mi è capitato con il precedente libro di essere presentata al premio strega è stata una bella soddisfazione ma poi la cosa si è fermata lì e quindi non mi aspetto niente però se verrà qualcosa di bello sarò pronta ad accoglierlo a braccia aperte vuoi spiegare la scelta dell'ambientazione l'ambientazione come ho detto prima è quella della città di mardin che si trova appunto sul confine tra turchia e siria dalla parte della turchia e anche in parte di un'altra cittadina sempre sul confine dove sono stata in un successivo viaggio che quella di kilis si vedeva questa vallata che poi è quella che porta ad aleppo quindi a pochi chilometri è il luogo dove la guerra è stata più terribile c'erano questi ragazzi che camminavano con i trampoli tutti vestiti a colori e mi è sembrata un'immagine bellissima un'ambientazione bellissima perché è proprio questo contrasto forte no lo sfidare la guerra con i trampoli i nasi rossi del circo le vesti colorate quanto c'è di te nei protagonisti dei romanzi? c'è qualcosa di me in ogni personaggio del romanzo è stato molto difficile immedesimarmi in dei ragazzi che possono aver vissuto un'esperienza drammatica come quella della guerra però il dolore che loro vivono i sentimenti che loro provano certamente in parte sono anche i miei a certo punto è come se i personaggi fossero tuoi figli per caso io ho vinto dei premi con questo libro non ho vinto dei premi con questo libro però sia questo libro sia il precedente viaggio in bianco e nero sono stati segnalati sul trimestrale di amnesty international per l'attenzione ai diritti umani e questo per me è stato più che un premio perché penso che ognuno debba dare il suo piccolo contributo per quello che sa fare sono una scrittrice e quindi cosa posso fare posso raccontare storie se noi abbiamo la sensazione che alcune realtà non ci appartengano è proprio perché non ascoltiamo le storie che ci aiutano a camminare per un po nelle scarpe di altre persone potremmo essere noi provano i nostri sentimenti il dolore non ha nazionalità i sorrisi non hanno nazionalità c'è qualcuno a cui vorresti dedicare il premio in caso di vittoria se dovessi vincere vorrei dedicare questo libro a tutti i bambini che ho conosciuto a mardin e achilis è come un augurio che possano riprendersi in mano una vita dignitosa e felice è stato tradotto anche in inglese e in arabo ci tenevo proprio che potessero leggerlo per ringraziarli di tutto l'aiuto che mi avevano dato e di tutta la ricchezza che mi avevano donato vuoi aggiungere altro allora vorrei aggiungere un grazie anzi più di un grazie avermi dato questa opportunità e un grazie a mio nipote che mi ha fatto questa intervista è stato uno dei migliori intervistatori che io abbia mai avuto e un grazie anche al mio editore gordiano lupi della casa editrice il foglio di piombino con cui ho pubblicato questo libro e anche quelli precedenti che ha sempre creduto in me e quindi grazie davvero sinceramente